Non ha nessun segnale del campionato, ma è un segnale che diamo a noi stessi. Crediamo a noi stessi perché volevamo finire bene questa prima parte di stagione. Ci siamo riusciti in una partita difficile, complicata, delicata. Ma a vincere queste partite significa che stiamo salendo di livello, stiamo salendo di maturità, di consapevolezza e di forza. On5 credo che siano stati stasera i nostri tifosi, che ci hanno accolto prima della partita, che ci hanno dato la carica. On5 siamo tutti noi quelli che viviamo qua, perché ci mettiamo tanta passione, perché vogliamo dare il massimo e ottenere qualcosa di importante. Si può dire che la squadra gioca ogni partita con la giusta mentalità e con la voglia di vincere fino alla fine, lo stiamo dimostrando. Poi dopo il fatto di essere primi nel 2020 non ci dà ancora nessun trofeo, quindi c'è ancora da lavorare e c'è ancora tanto da fare. Io sono insieme a loro, io sono insieme a loro e cerco di guidarli per far sì di ottenere il massimo. Passerò un bel Natale, bello sereno, bello soddisfatto, sapendo che però tra pochi giorni bisogna tornare con la testa concentrata, pronta, perché ci aspetto in altre partite difficili e una nuova parte di stagione molto stimolante. Io credo che dobbiamo essere bravi a capire perché sono dati certi risultati e proseguire su questa strada, perché abbiamo trovato un modo di lavorare, un modo di giocare, un modo di stare insieme che ci dà delle possibilità importanti, quindi assolutamente continuiamo così. Grazie. 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 Grazie.